allora vediamo se riusciamo a fare no 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 vediamo se riusciamo a fare un punteggio migliore contro nina dopo perché tanto dobbiamo farmare il resto delle ricompense non devi fare punti accumulati e siamo arrivati a 400 quindi facciamo un'altra prova vediamo dopo il cambio che abbiamo fatto la pizza di necomata perché non so se è una cosa migliore perché abbiamo abbassato il crit rate però è più equilibrato abbiamo messo anche crit a shinghi quindi vediamo però shinghi è ancora al 40 qualcosa di ok più di questi spacchi all'inizio e più tempo ti dà no ok bisogna sfruttare al 100% bene il dodge di shinghi l'abbiamo fatto ok qua facciamo il classico shingh ok guarda lì con 308 di moltiplicatore nooo non è giusto non è giusto ah tra l'altro lei può cittare ok è interessante sì ma mi dodge mi dodge gli attacchi nino così non concludo niente ok ma non siamo messi meglio di prima però ma quasi per niente cioè sono comunque punti extra eh però quanti chain attack stiamo facendo ok ok non è male in realtà dobbiamo romperne il più possibile più ne rompi e più tempo guadagnino nooo vabbè ok 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 combo fatta perfetto moltiplicatore al massimo ce l'abbiamo però giustamente lei deve cittare guarda facciamo doppio dodge forse ci siamo messi un po' meglio di prima ma mi sa che non cambia niente però eh mi sa che non cambia quasi niente purtroppo guarda quanto tempo fa perdere sta roba che fattino ah fa perdere un sacco fa perdere un sacco di tempo quando fa la meccanica perde un sacco di tempo ma abbiamo fatto molto più di prima però ah no vabbè non è vero oddio non lo so abbiamo fatto cos'è quella roba? che numero è? 24 24 24 24 24 milioni vabbè vabbè non mi posso lamentare fammi vedere un attimo ok qua ne abbiamo fatte altre due buono porca vacca ci vuole un sacco di tempo vabbè dipende da quanto danni fai no? ah dipende da quanto danni fai ok interessante oh molto carina molto carina si sta va bene probabilmente si può fare meglio facendo meglio anche le sogni da raccogliere in 0-0-11 però molto clean da combo con Shingi eccetera 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 eeeh tanta roba ci sa ci sa